bravo di regalare un codice per una skin gratis ma se anche te lo puoi ricevere 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like quindi 5,4,3,2,1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo mezzo puoi ricevere anche tu un codice skin qui su forehead beh ragazzi arriviamo ora a 50 like perchè tra poco voglio rilasciare sotto a questo video un codice skin che avrei dovuto lasciare ieri ma poi raga non ho potuto quindi scusatemi e mi raccomando lasciate ora un bel like perchè vado a lasciare un codice che soltanto uno di voi potrà utilizzare per una skin di Spider-Man Miles ah mi raccomando tra qualche giorno con i misi 1600 vbac andrò a fare qualche regalo quindi mi raccomando codice con ingamer582 per supportarmi noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi bye